Eccoci mister, 1-0-0 che la soddisfa o qualche ramarico visto che forse nel primo tempo avete avuto più possesso palla e qualche occasione in più? Sicuramente è stato un discreto primo tempo, non è che proprio mi è piaciuto tantissimo, però sicuramente non abbiamo rischiato niente. Il ritmo era sicuramente bassi, quindi non era quello che mi aspettavo, sicuramente avevamo una scuola giovane dovevamo sicuramente fare meglio. Abbiamo creato qualche occasione noi e loro sui nostri errori abbiamo concesso qualcosa, ma comunque è stata una partita da 0-0. Chi passava oggi aveva quasi assicurato anche il passaggio del turno, in quest'ottica come la vede per il proseguo del trofeo, per il passaggio del turno? Intanto pensiamo a domenica inizia il campionato che è importantissimo, poi quando arriverà quel mercoledì 21 mi sembra, accorteremo anche quella, perché è troppo avanti adesso, tanti calcoli. Oggi forse era una giornata meno calda di domenica scorsa, però si dice sempre che il calcio d'estate va preso un po' con le molle. Siete a buon punto con la condizione? Sì, secondo me ho visto miglioramenti fisici, sicuramente questo ho visto miglioramenti fisici, dobbiamo migliorare in altre cose, abbiamo fatto meglio sicuramente domenica scorsa. Insomma, per dare una chiusa all'intervista, insomma, è soddisfatto tutto sommato? Soddisfatto, abbiamo lavorato ancora, il risultato è importante e non abbiamo preso gole, è importante, dobbiamo migliorare tanto. Bene, grazie mister. Grazie.